K smette di fumare un film di cui non scorderete un fotogramma le vecchie abitudini sono dure a morire una produzione sadica cinefila autoerotica tabagista una pellicola per un pubblico malato degenerato scopofilo lei fuma? sì, ovvio male K smette di fumare l'antidoto definitivo alle sigarette vi prenderà per le palle il programma risolve l'astinenza da nicotina con l'eiaculazione ripetuta del cliente K smette di fumare un film per palati forti bruciati dal sapore acre del tabacco praticamente sono incarcerato ma lei lo è già incarcerato dal fumo dalle sue amate HB i paesaggi di Tarkovsky la luce di Bergman l'azione di Steven Seagal il montaggio di Ziga Berthoff la dolcezza di Truffaut tutto questo in un unico film K smette di fumare mi pare tu sei nella posizione di fare domande anche tu devi rispondere ancora alla domanda K smette di fumare l'amore per la morte ti toglierà il respiro un fumatore contro solo le sigarette che non fuma l'amore per la morte l'amore per la morte l'amore per la morte